cari amici buongiorno buona domenica buona domenica è una domenica più leggera questa perché ieri abbiamo vinto e quindi oggi ci siamo risvegliati col sorriso e ci siamo risvegliati col sorriso un po permettetemi di ironia anche perché ieri sera è finita 1 a 1 e vorrei parlare proprio un minuto delle due partite di ieri perché la lazio ha battuto il napoli mentre l'atalanta è andata a fare una grande partita sul campo dell'inter una grande partita ma secondo me anche l'inter ha giocato una buona partita adesso vi dico perché a mio avviso si va sempre di più verso un calcio verticale e cioè si sta mettendo un po da parte tutto il movimento nato dal guardionismo in poi sostanzialmente quindi fatto di possesso palla estenuante eccetera eccetera si torna ad un calcio molto diretto lo fa il liverpool che ha vinto anche ieri tra l'altro e nelle patrie italiane lo fa la lazio lo fa l'inter e lo faceva il napoli con sarri perché napoli con sarri faceva questo tipo di calcio è un calcio molto diretto molto verticale e grazie a dio ieri abbiamo provato a farlo anche noi quindi la direzione è quella e secondo me per fare quel tipo di calcio servono naturalmente determinati giocatori e serve una grande organizzazione perché non è semplicemente buttare il pallone in avanti abbiamo visto anche l'inter l'inter ha un gioco ben definito parliamo poi dell'atalanta ma anche la lazio fa questo tipo di gioco napoli ieri ha palleggiato ha palleggiato tutta la partita ha avuto anche qualche occasione diciamo nel complesso poteva anche portarsi via un punto non sarebbe stato un furto però resta il fatto che poi la lazio ha segnato su un errore del portiere eccetera eccetera ma in ogni caso la lazio è una squadra che va molto dritta ma molto dritta cosa che abbiamo provato a fare un po anche noi ieri e secondo me quella è la strada da da percorrere un commento sulla partita dell'inter devo dire che conte l'aveva preparata bene cosa che noi non avevamo fatto perché li ha marcati a uomo praticamente cioè tutto il primo tempo era uomo su uomo quindi sfide individuali e chi la vince la vince coppia d'attacco veramente ben assortita questo bisogna invidiarglielo perché adesso noi abbiamo zlatan ok tra l'altro poi rispondo all'amico emanuele che mi fa una provocazione loro però lautaro e lukaku veramente si trovano a meraviglia e conte ci ha visto lungo su lukaku ma d'altro insomma non è che uno che fa tanti gol in nazionale fa tanti gol in premier league sia proprio uno scarpone chi lo pensava probabilmente ha valutato con un po di superficialità le caratteristiche di questo giocatore oltretutto in italia i giocatori diciamo strutturati fisicamente e di corsa fanno spesso la differenza torniamo a noi torniamo a noi allora milan l'amico emanuele mi scrive questa mattina un messaggio provocatorio naturalmente con tutte tutte le simpatie del caso dicendo che io non volevo ibraimovic ma ieri li abbiamo visto fare un gol che piante che forse non avrebbe fatto allora io non volevo ibraimovic perché in questo momento lo trovo assolutamente fuori da ogni logica ma forse la logica c'è e io non la conosco questo è quello che mi auguro per cui è arrivato sono contento e ma ve va sempre bene anche se hanno una certa età anche se non siamo in corsa per nulla va bene perché ripeto c'è un motivo per guardare le partite ieri abbiamo visto un ibra che nel secondo tempo ha fatto veramente la differenza e qualcosa anche nel primo tempo si vede che è proprio un livello superiore ai nostri giocatori tra l'altro potrà fare bene anche ai nostri diciamo che intanto ha fatto bene perché ha fatto cambiare modulo e già questo è un passo avanti finalmente ci siamo liberati di quel 4 3 3 adesso stiamo facendo un 4 4 2 vediamo poi anche il mister cosa decide di fare vediamo che con la spal perché giochiamo tra tre giorni vediamo con la spal che cosa faremo da un punto di vista di formazione si deciderà di fare turnover far giocare certi giocatori oppure se deciderà di mettere i titolari non lo so se ibra può fare tre partite in una settimana perché poi domenica prossima giochiamo con l'udinese in casa quindi vedremo un po le scelte tra oggi domani che cosa deciderà il mister comunque io non ero per il ritorno di ibra a dire il vero io lo sapete sono per un mercato totalmente fermo perché in questo momento è inutile andare a spendere dei soldi limite dei prestiti ma soldi non vanno spesi per cui va bene è arrivato me lo godo per questi sei mesi come ce lo godiamo tutti quindi questa è la mia risposta o c'è da dire una cosa importante però che è vero che dobbiamo andare a fare un certo tipo di calcio verticale eccetera eccetera come vi dicevo prima dobbiamo spostarci verso quella direzione quindi tanti giocatori che sono adesso al milan al milan non ci dovranno essere se l'idea è quella di costruire una squadra di un certo tipo a prescindere da tutti i discorsi societari ma tra l'altro l'ha fatto intendere anche la dirigenza un articolo della settimana scorsa diceva che la volontà è quella di andare a costruire una squadra che abbia caratteristiche dinamismo di corsa eccetera eccetera quindi andando verso quel tipo di calcio meno male meno male che si sono accorti che noi se la passavamo così ticket e ticket senza un grosso costrutto e tornando alla partita di ieri però credo che sia fondamentale due cose sia credo che siano fondamentali due cose la prima cosa che vi dico è che dobbiamo stare molto tranquilli dobbiamo stare molto tranquilli perché già ieri cominciavo a leggere di tabelle di rimonta sulla champions allora mettiamoci il cuore in pace che quest'anno non difficilmente riusciremo a lottare per l'europa anche perché l'europa league è tutto da vedere se la vogliono conquistare in dirigenza e poi se ci ammettono perché se dobbiamo fare di nuovo la figura di essere esclusi così da dall'organo è meglio a quel punto nemmeno qualificarsi quindi meglio fare le cose che sarebbero fatte secondo me cioè provare certi giocatori per capire chi il prossimo anno potrà essere del milan e chi no questa è la strada da percorrere non facciamoci illusio io non me ne faccio assolutamente perché ve l'ho sempre detto non mi fido assolutamente di nessuno dei miei so che sono molto altalenanti nelle prestazioni mentalmente non sono così forti da poter fare un filotto di risultati per cui dico calma ieri abbiamo vinto siamo tutti contenti dobbiamo però pensare alle prossime partite perché le prossime partite hanno degli ostacoli hanno degli ostacoli tanto ne giocheremo in casa ho visto il calendario giocheremo in casa in coppa italia in casa con l'udinese in casa con il verona poi giochiamo a brescia e quindi diciamo sono tutte partite che sulla carta possiamo vincere però possiamo vincere se gioca sempre ibraimovic o possiamo vincere anche senza ibraimovic perché adesso diventerà questo il grande tormentone quando ibra non potrà giocare perché non può a 38 anni fare cinque sei partite in un mese e vediamo chi chi intanto vediamo chi sarà il suo sostituto perché gli indizi di ieri sono secondo me abbastanza significativi un indizio a e questa è la seconda cosa un indizio a cagliari e un indizio a milano perché a cagliari paquetà e piontek non sono entrati nemmeno sul 2 a 0 nemmeno ibra si sentiva di stare in campo quindi ha giocato lui però per dire leau è rimasto in campo anche se spostato un po in modo strano a fare il quinto esterno in centrocampo a 5 e piontek non è entrato non è entrato nemmeno paquetà è entrato buonaventura quindi io credo che ormai ragionevolmente si possa pensare che piontek forse ma paquetà direi al cento per cento fuori dal progetto cioè non c'è nessun motivo per 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 tenerlo fuori anche nella rotazione delle riserve quindi credo che sia una una strada tracciata quella del brasiliano che ci saluterà adesso credo che si dovranno accordare su una cifra che possa andare bene al milan e possa andare bene al pari mi auguro il più possibile perché non ho capito per quale motivo ogni volta che noi dobbiamo andare a comprare un giocatore ci dobbiamo svenare e dobbiamo trattare fino all'ultimo centesimo quando andiamo a vendere possiamo dargli a poco cioè le altre squadre devono cominciare a mettersi nell'ottica delle idee che anche noi abbiamo bisogno di fare cassa se vendiamo un giocatore soprattutto un giocatore di prospettiva che sapete io non è che proprio venderei però se le esigenze sono quelle di far cassa e l'offerta è congrua sono tutti vendibili sono tutti vendibili l'altro indizio che arriva da milano è invece quella di politano è quello di politano politano che è rientrato nel secondo tempo nel finale e questo potrebbe essere significativo chiaro che anche lì se il l'inter chiede 25 milioni di euro e milan si gira e se ne va non c'è trattativa sulla base di questo ci sarebbe trattativa se l'inter concedesse un prestito magari con diritto o anche se proprio vogliamo farci del male con obbligo però un assegno da 25 milioni così buttato lì per politano in questo momento è credo che sia ragionevolmente possibile anche per una questione d'immagine perché non puoi vendere più onte che prendere politano ve l'ho sempre detto con tutti i limiti il polacco eccetera lo sapete lo sapete per cui stiamo a vedere intanto ufficiale oggi caldara l'atalanta ritorna là anche lì osserveremo con con curiosità che cosa potrà fare il centrale difensivo in quel di bergamo nel complesso ripeto soddisfazione per ieri però non facciamoci troppi film non facciamo tabelle non facciamo corse non facciamo niente perché in questo momento noi dobbiamo semplicemente guardare partita dopo partita cercando di capire che in questo momento siamo totalmente nelle mani di ibra ma l'ha fatto intendere anche pioli e non sono invenzioni mie e quindi se riusciamo a creare qualcosa anche un po al di fuori prendendo una nuova strada allora le cose saranno state fatte bene se invece siamo totalmente ibra dipendenti rischiamo di fare qualcosa di brutto da qui alla fine della stagione perché ovviamente quando lui non potrà giocare per motivi oppure quando non risolverà le partite come ieri saranno saranno dolori ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate passate una buona domenica mettete like al video iscrivetevi al canale qua sotto e noi ci sentiamo domani intanto oggi giornata serena e tranquillo un bel sole una bella camminata passate bene